Pagina 26 Che agitazione, che baccano, geme lupo tappandosi le orecchie. Ma dove sono finito stavolta? Viva la rivoluzione! Gridano alcuni contadini, armati fino ai denti. Unisciti a noi, cittadino lupo! Andiamo a prendere la bastiglia! Lupo riflette un secondo. Che lui ci vada o no, la situazione si scalderà. Tanto vale eclissarsi. E puff! Scompare. Vedete? Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. La presa della bastiglia nel 1789. Guardate. I contadini si rivoltano contro la monarchia. E quindi vanno a prendersi la bastiglia. Ho! Ho! Ho!